Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui vi faccio vedere questo nuovo unboxing Che è a tema cinema Vi dico già cosa c'è Andiamo ad aprire insieme Questo nuovo pacco Vediamo che comunque L'ha imballato Davvero bene Devo aprire qui Ammi posare un attimo La telecamera Andiamo a tagliare qua Perfettissimo E andiamo a vedere ragazzi Che è coperto molto bene E praticamente Ragazzi E' un film In 16 Millimetri Il primo film 16 millimetri che ho preso Vediamo se Magari Ho messo qualche omaggio O c'è altro No Ok Possiamo mettere Via Il cartone Ed ecco qua ragazzi Il film 16 millimetri In valigetta Andiamo a vedere Agente Agente Ted Ross Positivo 16 millimetri Due parti Sono l'ottico Bianco Nero Bellissima Bellissima La valigetta Qui c'è il titolo Agente Ted Ross Dolente Francesco Andiamo a vedere un po' Come si apre ragazzi Andiamo a posare un attimo la telecamera Ecco qua Ed ecco qui ragazzi Qui vediamo Magic Cinematografica Cinematografia A passo ridotto 16 millimetri Napoli Agente Ted Ross Criminale Copia Novissima Due parti Prima di montare Il film In macchina Controllare Che ci sono Vari Regole Da seguire Alla particolare Attenzione Degli operatori Di cabina E ragazzi Devo dire Che sono anche Ben imballate Le pellicole Ecco qua Una Prima Prima E poi Sotto C'è la seconda Parte Ragazzi Bellissima Andiamo a posare un attimo La telecamera Ed ecco qui La parte Due Bellissima In 16 millimetri Bianco Nero In italiano Ovviamente Il film E niente Ragazzi Mettete mi piace Commentate Iscrivete Al canale E noi Come sempre Ci vediamo In un prossimo Video Ciao a tutti E belli In Ciao a tutti Grazie per la visione